Sono stati consegnati ieri nella sala conferenza dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela gli attestati e gli studenti che hanno partecipato al percorso di educazione alla cittadinanza attiva Passaporto del Volontariato. Circa 400 ai giovani coinvolti che dal mese di novembre sono impegnati in vari laboratori in tutti i quartieri della città. Alla cerimonia era presente il direttore del presidio ospedaliero Luciano Fiorella. Quest'anno numerosi studenti hanno deciso di impegnarsi tra le corsie dell'ospedale. Il progetto è promosso dalla rete di associazioni della Casa del Volontariato di Gela e si realizza con il supporto del Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo e la collaborazione delle scuole giolesi. Il volontariato si apre assieme all'ospedale per cercare di trovare soluzioni migliori di offerte di servizi per i pazienti. Dicevo proprio questo ai ragazzi ringraziandole dell'attività svolta e alle associazioni che noi siamo aperti per ricevere suggerimenti preziosi per migliorare, ribadisco, i servizi che possiamo dare. Per noi è una punta di orgoglio avere questi giovani, è un punto prezioso per la nostra attività poterci confrontare anche con i giovani. È una forma di apertura della città che abbiamo iniziato già da parecchio tempo e che abbiamo intenzione di mantenere e ampliare. Noi abbiamo iniziato con il passaporto del Volontariato come ogni anno, iniziamo sempre all'inizio dell'anno. Noi cerchiamo di coinvolgere più ragazzi possibili. Abbiamo visto quasi, come mi dicevo all'inizio, tutti i ragazzi degli istituti superiori. All'incirco 200 ragazzi hanno aderito all'attività dei laboratori che si sono tenuti sia all'interno della Casa del Volontariato, in altre strutture, anche qui all'interno dell'azienda ospedaliera. I ragazzi all'inizio sono un po' restrivi nel partecipare, nel credere all'associazione e poi una volta che riescono a capire il meccanismo si comportano abbastanza bene. Il progetto è stato realizzato senza alcun contributo pubblico. L'obiettivo raggiunto è stato quello di esaltare il valore della gratuità e del dono frutto di un lavoro di rete che già la pone al centro la questione educativa come trasversale a tutte le associazioni di volontariato. L'esperienza è quella comunque di far avvicinare i ragazzi al volontariato, lo fanno qui in ospedale, hanno trovato comunque delle parti dove poter prestare la loro attività. E l'inizio per loro, per cominciare a dare una mano nella società, per entrare nel mondo civile, lo fanno da studenti e sicuramente questo non può essere altro che comunque un buon viatico per il loro ingresso nel mondo degli adulti. Strappiamo un sorriso a queste persone ed è bello vedere sorridere, far felici a persone che hanno bisogno di queste cose. Poi penso che continuerò anche il prossimo anno a far parte del volontariato e anche il prossimo anno ancora. È stata per me una bellissima esperienza perché mi ha permesso di conoscere nuove persone e di praticare anche una nuova attività che è stata quella della fotografia che mi piace molto perché ci ha permesso anche di scoprire nuovi luoghi della città.